Ben trovati alle parole della domenica, questa settimana siamo di fronte a una domenica speciale, direi che è la domenica di tutte le domeniche, la domenica della Pasqua del Signore, ci siamo preparati ad arrivare fino qui attraverso quelle che sono state i riti del Triduo Pasquale, il giovedì, il venerdì santo e poi attraverso la grande liturgia della Veglia Pasquale abbiamo avuto una straordinaria occasione, quella di ripercorrere attraverso le letture tutta la storia della salvezza, dalla creazione del mondo fino alla grande profezia, quella contenuta nel libro del profeta Ezechiele che appunto ci parla della possibilità di avere da parte di Dio un cuore nuovo, non solo, un cuore di carne, non solo, un cuore dentro il quale possa abitare lo stesso Spirito di Dio. E allora è stata l'epistola che ci ha aperto e spalancato a quello che è il mistero pasquale, ovvero se siamo associati a Cristo siamo associati anche alla sua resurrezione. Il Vangelo di Matteo all'interno della Veglia Pasquale ci ha posto dinnanzi un'apparizione straordinaria, le donne che non hanno trovato il corpo che erano andate a cercare in realtà lo incontrano direttamente perché è lo stesso risorto che si fa avanti e si fa toccare. Bene, siamo aiutati sicuramente anche dall'immagine che accompagna questo commento che è l'immagine del Santo Sepolcro, il luogo storico di questo evento e potremmo rischiare di fare di questo proprio un passaggio storico. Insomma, è successo a lui, ci fu una domenica particolare sulla Terra e poi è finito tutto lì. Le letture della mattina della domenica di Pasqua fugano questo pensiero, non fu un evento storico chiuso nel tempo, infatti se noi cominciamo a leggere quello che è il grande discorso che Pietro fa, sappia tutta la casa di Israele, la faceva a chi? A chi aveva lì davanti a sé e che cosa raccontava? Raccontava gli eventi che erano stati vissuti dal gruppo degli Undici in quei giorni, ebbene quel Cristo Dio lo ha risuscitato dai morti, noi ne siamo testimoni. Allora mi piace partire di qui, che cosa è la liturgia della domenica di Pasqua? E' la liturgia che inaugura una stagione nuova, quella della testimonianza, quella che è resa possibile appunto da una storia della salvezza che si compie nell'evento della risurrezione. Ecco quindi l'invito che è contenuto all'interno della seconda lettura, cercate dunque le cose di lassù, perché chi è credente, fedele di Cristo, irrisorto, farà scelte conformi a questa fede, una fede difficile che già nelle prime persone presenti ha creato qualche difficoltà, certamente. Allora il testo del Vangelo che è scelto per la mattina di Pasqua è tratto dal ventesimo capitolo del Vangelo di Giovanni. E' la prima parte di questo capitolo che contiene in realtà diversi aspetti che avremo modo di vedere poi nella liturgia a seguire. Ma fermiamoci su quello che è stato scelto per la mattina di Pasqua. Vi è una donna, Maria di Magdala. Per l'Evangelista Giovanni è una donna particolare, nel senso che lei diviene la prima testimone di cosa? Del fatto che dentro questo sepolcro il corpo morto di Gesù crocifisso non c'è. La sua corsa ad andare a cercare chi? Pietro, Giovanni, i due che rappresenteranno per la prima comunità nascente sicuramente i punti di riferimento. Pietro, da una parte, diverrà significativo per tutta la Chiesa, ma in particolare per quella di Gerusalemme, e Giovanni, il discepolo da lui amato, che si occuperà maggiormente di quella che sarà la diffusione del cristianesimo poi nella provincia d'Asia. Da lì, per esempio, scriverà quelli che sono i suoi contributi per il Nuovo Testamento. Ebbene, sono questi due discepoli che corrono, vanno al sepolcro e ci aiutano, ci aiutano ad entrare in questo luogo, in questo luogo dove la grande pietra che era stata rotolata consente di vedere dentro. E dentro che cosa si vede? Si vedono dei teli, la traduzione corretta, accettabile, posati là. In realtà il verbo originale greco suggerisce l'idea che siano teli appoggiati nella stessa posizione, come se fossero sgonfi. L'idea giovanea è più concreta, ovvero i teli sono posti nello stesso posto come quando il corpo di Gesù fu deposto, ma i teli ci sono nello stesso posto là, ma sono senza il corpo, appoggiati. E così il sudario che stava sul volto in un luogo a parte, cioè dalla parte del capo, da una delle due parti appunto dove era stato posto il corpo di Gesù. E Giovanni ci dice, vide e credette. Questi sono due verbi importanti che la liturgia nel giorno della Ressurrezione, nel giorno della Pasqua, mette sotto il nostro sguardo. Così per esempio abbiamo ascoltato anche attraverso la sequenza che per il giorno di Pasqua è prevista già dal 1570, cioè dopo il concilio di Trento, già il missale romano la acquisisce come una delle sequenze diciamo previste all'interno della liturgia. In realtà è un testo ancora più antico, è un testo presumibilmente intorno all'undicesimo secolo, ma al di là di questo che cosa ci vuole sottolineare? Dimmi Maria, che cosa hai visto sulla via? Che cosa hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, ovvero questa tomba vuota, è il segno della vita nuova, della Ressurrezione. E sì, è proprio vero che la morte e la vita si sono affrontate in questo prodigioso duello, un duello che per i nostri occhi è quasi impensabile, è qualche cosa che sfugge alla nostra comprensione concreta. Eppure da qua si origina la scelta. Da una parte vi è chi è rimasto dietro e quindi questo lo ha considerato un evento storico concluso. Dall'altra, coloro che attraverso lo Spirito di Dio donato nei cuori, che sarà lo stesso Spirito del Risorto, saranno capaci di assumere delle decisioni, cioè di esserne testimoni. Ecco allora il perché della grande testimonianza di Pietro che viene annunciata la mattina della Pasqua. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. E che cosa è il giorno del Signore? Il giorno del Signore è l'inizio di una vita nuova, di una nuova creazione, della possibilità che viene data a chiunque voglia entrare in quel sepolcro di fare come fa Giovanni, vedere quelle bende e credere. Credere nella potenza di un amore che ha condotto l'umanità attraverso tutti i secoli finché non ha trovato il pieno compimento nell'obbedienza del Figlio che ha assunto questa condizione umana e la redenta mediante il sacrificio sulla croce. Ed è da qui che nasce la grande e straordinaria forza del Padre che risuscitandolo spalanca le porte della salvezza a tutta l'umanità. Allora da questo luogo veramente in questa domenica si irradia una luce perfetta, una luce per le nostre vite, per la nostra fede che forse ha bisogno di essere ripensata, di essere rivalutata con occhi nuovi eppure sempre antichi di fronte al medesimo mistero per fare come ha fatto Maria che presa dalla sorpresa di queste bende restate lì ma il corpo morto non trovato corre e va a chiamare gli altri. Questa dinamica che nasce dalla Domenica della Pasqua è quella che ha consentito alla fede cristiana di propagarsi da quel giorno e da quel luogo fino ai confini della terra e non soltanto per una generazione ma anche per tutte le generazioni a venire perché tutti potessero avere accesso alla fede nel risorto che ci associa mediante il suo spirito alla salvezza eterna. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. E allora un messaggio da quella Domenica per tutte le Domeniche si irradia dentro l'umanità redenta. Cristo è veramente risorto. Buona Pasqua! Grazie a tutti!